Musica Si fa un gran parlare negli ultimi mesi degli investimenti internazionali in Italia. Sembra di capire che sta tornando l'appeal verso questa tipologia di investitori, è così? Sì, penso che indubbiamente ci sia un grande interesse da parte degli investitori stranieri in Italia, non solo negli ultimi mesi, credo che l'interesse sia già stato avviato vari anni fa, quando effettivamente eravamo proprio nel downturn dell'economia, alcuni investitori opportunistici si sono affacciati al mercato italiano acquisendo in realtà degli immobili super core. Adesso la tendenza chiaramente della competitività su questa tipologia di immobili è diventata molto alta, per cui gli investitori stranieri si stanno spostando su altre nicchie di mercato. Ovviamente c'è sempre un tema di necessità di trovare un prodotto adeguato e non sempre è facile trovarlo. Farò un intervento oggi pomeriggio proprio sulla ricerca di questi prodotti alternativi. Alcuni esempi virtuosi a mio avviso ci sono. Chiaramente si tratta sempre di cose molto localizzate, molto limitate. Raccontiamo ad esempio un paio. Un paio di esempi. Ma adesso non vorrei citarne nessuno in particolare, ma vedo un grande interesse sul mondo della residenza, concepita in una maniera un pochino differente da quella che è il normale approccio culturale che abbiamo noi come nazione rispetto alla residenza. Ovviamente l'attuale apparato normativo non consente che la residenza diventi un bene core, quindi da investimento per investitori istituzionali, però ci sono delle nicchie di mercato, quindi residenze per studenti, studentati e residenze per anziani che stanno diventando un asset class di grande interesse, studio e quindi anche di sviluppo, di varie iniziative da parte di operatori molto specializzati in questo settore. Ma poi chi investe in questi fondi? Ad esempio casse, fondi pensione? Beh, in Italia vediamo che buona parte dei fondi immobiliari sono detenuti da investitori istituzionali, spesso troviamo investitori anche fondi pensioni, ma in buona parte anche gli investitori esteri investono attraverso lo strumento fondo immobiliare italiano, in realtà i capitali provengono dall'estero.